Accusato di lesioni alla compagna incinta, alvia il processo per un quarantenne. Maltrattamenti e stalking, pena ridotta per un uomo che era stato accusato anche di violenza sessuale sull'ex moglie. Il voto in Sicilia, il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania diventa deputato regionale. Abusivismo commerciale, controlli della polizia, confiscate 60 cassette di frutta e verdura. Interventi sulle caditoie in diverse vie del capoluogo nisseno. Bentrovati a questa nuova edizione del telegiornale. In apertura la cronaca giudiziaria, un quarantenne a processo per maltrattamenti sulla compagna incinta. Il servizio. Scatta l'ora del processo per un uomo di 42 anni di Casteltermini accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della compagna. Secondo l'accusa, l'imputato, per diversi mesi, avrebbe colpito la donna con calci, pugni e schiaffi, oltre ad insultarla, non fermandosi nemmeno davanti al fatto che la donna fosse in gravidanza. Una volta raccolti gli atti, la procura ha chiesto il giudizio immediato, ritenendo di avere elementi sufficienti per andare in aula senza passare dal filtro dell'udienza preliminare. Il GIP di Agrigento ha accolto la richiesta. Vessazioni ripetute nel tempo, quelle che sempre, secondo l'accusa, l'imputato avrebbe messo in atto, non risparmiando nemmeno insulti al nascituro. In tutto questo, in base alle risultanze investigative, la donna sarebbe stata anche costretta a non uscire dalla propria abitazione. Il 25 maggio dell'anno scorso la situazione aveva raggiunto il picco. In base alla tesi degli inquirenti, nel corso di un litigio, l'imputato aveva aggredito la moglie con calci e pugni, afferrandola per i capelli e facendola cadere a terra. Non contento, sempre secondo l'accusa, aveva anche cercato di scaraventarla dalle scale, fermandosi solo davanti alla supplica della donna che temeva di perdere il bambino. Particolari emersi dopo la denuncia della persona offesa, la quale, a seguito dell'aggressione, dovette ricorrere anche alle cure dei medici in ospedali, visto che aveva riportato un trauma cranico, dei graffi alla schiena e accusava anche dei dolori. La prognosi era stata di 15 giorni. Caltanissetta, pena ridotta in appello per un uomo accusato di violenza sessuale, stalking e maltrattamenti. Pena ridotta a tre anni in appello per un uomo residente in un paese della provincia nissena che era stato accusato di violenza sessuale sulla ex moglie e di avere commesso i presunti abusi anche davanti ai figli minorenni, oltre che di maltrattamenti e stalking. La corte d'appello lo ha assolto dall'accusa di violenza sessuale, condannandolo però per stalking e maltrattamenti. Sconto di pena anche per la sorella dell'uomo, che è stata condannata a sua volta a un anno per stalking, ma assolta dal reato di induzione a commettere reato, in quanto, secondo l'accusa originaria, la donna aveva esercitato pressioni sulla persona offesa in modo che non denunciasse il fratello. In primo grado l'uomo era stato condannato a sei anni, mentre la sorella a un anno e sei mesi. I fatti risalgono al 2019. La persona offesa, parte civile con l'avvocato Salvatore Virciglio, aveva denunciato di essere stata maltrattata per diversi anni dall'ex consorte, il quale, sempre secondo l'accusa, era arrivato ad abusare di lei anche davanti ai figli minorenni. L'uomo sospettava anche che l'ex moglie la tradisse e insieme alla sorella l'avrebbe quindi seguita dappertutto e in un'occasione l'avevano anche sorpresa con un'altra persona. In ogni caso, la persona offesa aveva deciso comunque di denunciare le presunte violenze e le persecuzioni subite, oltre ai tentativi dell'allora cognata di convincerla a non rivelare nulla agli inquirenti. La procura generale aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado, mentre l'avvocato difensore Giuseppe Daqui aveva chiesto l'assoluzione sostenendo l'assenza di elementi alla base dell'accusa, in particolare riguardo alla violenza sessuale, visto che i figli minorenni della coppia avevano affermato di non avere assistito a episodi del genere. Vediamo l'analisi del voto. Il sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania, diventa deputato regionale. Sentiamo i particolari. Dopo 32 anni dall'ultima volta di Nino Cicero, vice segretario della democrazia cristiana di Catanissetta, Mussomeli avrà un nuovo deputato, il primo cittadino Giuseppe Catania. Candidato con la lista Fratelli d'Italia, Catania, al suo secondo mandato consecutivo come sindaco di Mussomeli, infatti, è riuscito a prendere 4.520 preferenze, ottenendo la carica alla regione. Adesso per lui la parte più difficile da portare avanti, ottenere quegli aiuti fondamentali per aiutare il vallone, territorio spesso troppo trascurato. Non sarà facile, ma nemmeno impossibile. Sono felice per questa affermazione, per il risultato raggiunto, per il traguardo. Sono soprattutto felice anche per il tributo di affetto che i cittadini del Nisseno, in particolare i miei concittadini, Mussomeli e i cittadini del vallone, mi hanno conferito. Ovviamente questo mi carica ancora di maggiore responsabilità con l'obiettivo ovviamente di dare risposte a un territorio che ha parecchie criticità e che ovviamente necessita di interventi urgenti per migliorare le condizioni di vita complessivamente, la qualità di vita complessiva del nostro territorio. Purtroppo la nostra provincia, ce lo confermano i dati del report del Sole 24 Ore, è relegata agli ultimi posti in termini di qualità di vita, quindi sono tante le criticità che bisogna affrontare, tra le tante sicuramente le infrastrutture, infrastrutture viarie digitali che sono estremamente importanti e sono le condizioni di presviluppo, le precondizioni per lo sviluppo del nostro territorio. Bisogna affrontare anche i temi legati ad una strategia sull'agricoltura e sul turismo nella nostra provincia, nel tentativo appunto di valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio, valorizzare gli itinerari turistici nel nostro territorio. Chiaramente un'attenzione particolare dovrà essere dedicata, ed è questo uno dei miei obiettivi, all'offerta sanitaria che le nostre strutture ospedaliere danno ai nostri concittadini, occorre davvero mettere mano a tante cose, chiaramente non c'è la bacchetta magica, c'è però l'obiettivo di mettere tutto l'impegno che io da sindaco in questi sette anni ho dedicato a Mussomeli, adesso si tratta di trasferire questo impegno su un ambito più allargato, quindi una dimensione provinciale. Ed è questo il mio obiettivo, cioè quello di confermare il capitale di fiducia che i miei concittadini mi hanno attribuito e conquistare quella fiducia anche da parte di altre aree territoriali presenti in tutta la provincia di Sene. Con la validazione da parte della prefettura di Palermo del dati relativi alle sei sezioni del comune di Marineo, si è chiuso definitivamente lo spoglio per le elezioni regionali nel palermitano. Sono scese quindi a 48 le sezioni elettorali che a causa di dati incompleti o errati trasmessi dai comuni alle prefetture ancora mancano all'appello. E' quanto si legge in una nota nella regione. Nello specifico 43 nel Siracusano, 42 nel Capoluogo e 1 a Lentini, 2 nella città di Agrigento, 2 nel comune di Villalba nel Nisseno e 1 a Misiliscemi in provincia di Trapani. Come spiega l'ufficio elettorale della regione siciliana, i verbali dei comuni relativi alle sezioni mancanti sono stati trasmessi dalle prefetture ai tribunali competenti, che effettueranno un nuovo scrutinio il cui verbale di esito verrà inviato direttamente all'ufficio centrale regionale presso le corti d'appello. Una volta che il conteggio dei voti sarà completo, l'ufficio centrale regionale proclamerà il presidente della regione il primo dei candidati alla presidenza non eletti e stabilirà la soglia del 5% valida per l'attribuzione dei seggi all'Assemblea regionale siciliana. Abusivismo commerciale in città sequestrate 60 cassette di frutta e verdura nel corso di una serie di controlli, i particolari. 60 cassette di frutta e verdura sono state sequestrate questa mattina a diversi venditori ambulanti abusivi in tutta la città, i quali, stando a quanto accertato nel corso dei controlli, non avevano la licenza di vendita e avevano collocato senza autorizzazione i loro banchi di vendita. Questo è il bilancio di una serie di controlli a tappeto messi in atto dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Municipale. La merce sequestrata verrà devoluta in beneficenza. Un'attività che segue a stretto giro quella operata la scorsa settimana dalla Polizia Amministrativa. I controlli sono stati disposti dalla Prefettura per contrastare l'abusivismo commerciale. Gli investigatori hanno infatto sottolineato come l'abusivismo commerciale e la contraffazione dei prodotti finiscano per danneggiare gli imprenditori e i commercianti che lavorano in maniera regolare, andando a distorcere le regole che disciplinano il libero mercato. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. Caltacqua comunica la ripresa dell'esercizio degli acquedotti Ancipe e Blufi da parte di Sigiliacque. Ecco il programma distributivo per i comuni interessati. Caltanissetta, 28 settembre, tutte le zone in 24 ore, Santa Barbara e Trabonella. 29 settembre, Centro Storico, Balate, Sanatorio, Angeli, Viale Medeo e Cinnirella. Seguirà la consueta programmazione. A Mazzarino, 28 settembre, zone Mercadante e Immacolata. 29 settembre, Santa Lucia e Via Roma. Inoltre, ripresa la distribuzione nelle zone marine di Butera. Interventi sulle caditoie in città, il punto della situazione. Via Luigi Monaco, Viale della Regione, Via Rosso di San Secondo, Via Calabria, Via Catania, Piazza Europa, Via Retusa, Via Salemi, Via Mandelena Calafato, Via Redentore, Via Trieste, Via Messina. Sono alcune delle strade cittadine che saranno interessate dai lavori di pulizia delle caditoie e tombini. Un annuncio che lo stesso assessore al ramo, Marcello Frangiamone, fa attraverso i social e che conferma i nostri microfoni. Si tratta di un intervento cominciato a inizio settimana, necessario proprio in vista delle piogge autunnali. I lavori sono già partiti, sono iniziati a partire appunto da lunedì e si protrarranno nei giorni a seguire. Sostanzialmente l'azienda che si occuperà appunto della pulizia dei tombini e delle caditoie lavorerà durante la notte al fine di non intralciare il traffico e non creare problematiche appunto alle attività giornaliere. Le aree che sono interessate sono interessate all'incirca 800 tra caditoie e tombini che sono quelli che appunto l'ufficio ha individuato che sono i più importanti da sistemare proprio per fare in modo che si possano eliminare i rischi di alluvioni o inondazioni che purtroppo ormai con questo clima particolarmente impazzito che determina bombe d'acqua improvvise con concentrazione di quantità d'acqua in poco tempo ormai mette a dura prova tutte le vie di deflusso delle acque. Pur non di meno i lavori già sono partiti e si avvieranno e si concluderanno diciamo nei giorni a seguire con la pulizia appunto di tutti i tombini interessati. Diverse le criticità riscontrate anche dagli stessi cittadini in alcune zone come ad esempio in centro storico. Diciamo che ci sono alcune vie che saranno trattate in modo prioritario perché sono più critiche poi evidentemente saranno anche interessati i tombini che sono presenti, i tombini soprattutto le caditoie che sono presenti anche in centro storico e anche in altre vie che appunto non sono state diciamo segnalate in questa prima tranche. Fiera di San Michele all'ex foro Boario. Vediamo come stanno le cose nel servizio. Il maltempo che si è abbattuto sull'inizio della fiera di San Michele che ha causato un inizio in sordina, lamentele e eronie social sembra essere rientrato nei ranchi. Ne parliamo con il vice sindaco Grazia Gian Musso, il presidente della quinta commissione consigliare Gianluca Bruzzaniti e il presidente della CIDE che è responsabile di Luna Park. Siamo su un'esposizione di 18 mila metri quadrati, finalmente dopo circa vent'anni si riuniscono insieme il Luna Park e la fiera. Questo è stato voluto fortemente da tutte le associazioni di categoria che hanno voluto riprendere questa antica tradizione nel lavorare tutto insieme. Quindi abbiamo una parte di food all'esterno, è ben organizzata e all'interno abbiamo il Luna Park e abbiamo le bancarelle. Insieme abbiamo portato avanti tutte quelle che sono state le esigenze da soddisfare con gli operatori e quindi oggi abbiamo una bella passeggiata da venire a percorrere con una strada anche asfaltata. Quindi noi ci riteniamo soddisfatti. C'è un bus e navetta come c'è sempre stato, questa non è una novità perché la fiera di San Michele è stata sempre servita appunto dalle bus e navette. Ci sono i vigili urbani che costantemente presidiano la zona, abbiamo i vigili del fuoco che sono sempre qui in costante servizio per garantire la sicurezza. Quindi abbiamo una fiera in un unico spazio espositivo, una fiera sorvegliata, vigilata e soprattutto abbiamo delle giostre funzionanti già da ieri sera. Abbiamo avuto a che fare con il maltempo e purtroppo contro quello non possiamo fare tanto. Purtroppo c'è stata una pioggia battente qualche giorno fa che ha causato qualche disguido. Prontamente l'ufficio tecnico è intervenuto. Devo dire che sia l'assessore Gianmusso che l'ingegnere Tomasella sono stati quotidianamente presenti presso il foro boario cercando di mettere in campo tutti gli accorgimenti necessari. Io ritengo invece che il sito è il sito migliore per la realizzazione dell'evento fieristico e sono convinto che per il futuro tante migliorie potrebbero essere apportate affinché la fiera di San Michele torni ad essere in qualche modo quella di una volta. Ho letto che le persone non erano tanto favorevoli a venire in fiera perché giustamente di quello che uno vede pensa di venire qua con gli stivali, ho letto di venire con i passeggini cingolati, ne ho letto di tutti i colori. Io volevo dire che non è vero così perché la fiera era un pochettino di disagio, l'abbiamo avuto noi operatori, però noi abbiamo voluto provare con il comune perché non avendo altre aree di provarla questa fiera, dargli fiducia all'amministrazione comunale. Abbiamo avuto qualche disagio che loro ci hanno cercato di risolverlo, però ripeto per la popolazione invece non è così perché per la popolazione il comune ha spaltato tutto il punto dove passeranno le persone, perciò le persone con i passeggini, con chi è vicino con i tacchi può passeggiare tranquillamente perché c'è l'asfalto nuovo. Come primo giorno, ieri sera, l'afflusso di persone c'era, anzi abbiamo lavoricchiato onestamente, sperando che tutta la settimana sia così. Caltanissetta l'impegno per i rifugiati ucraini, sentiamo il servizio. Il GRAF, Gruppo Accoglienza Famiglia, costituito in modo particolare da persone volontarie e ideato dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, nei mesi hanno sopperito, grazie all'aiuto di alcune famiglie nissene, al fabbisogno giornaliero di queste persone costrette a scappare dai bombardamenti nella loro terra da parte dei soldati russi. Nei mesi, dopo il 24 febbraio, l'accoglienza di queste persone ha costituito un peso economico non indifferente alle famiglie ed è per questo che il GRAF ha lanciato il progetto Tandem, ovvero famiglie che aiutano le famiglie che ospitano i rifugiati ucraini. Al momento in città ci sono 20 ucraini in affidamento e il progetto non prevede solo aiuti economici, ma anche la disponibilità come nell'accompagnare i bambini a scuola o attività extracurriculari. Faccio parte di questo gruppo spontaneo di persone, non è un'associazione costituita ma un gruppo che si è costituito spontaneamente così perché in vista dell'emergenza ucraina che si era palesata subito dopo il 24 febbraio ci siamo chiesti cosa potevamo fare per queste persone che fuggivano dalla guerra, dai bombardamenti dei russi. L'accoglienza di queste persone all'interno delle famiglie ha costituito naturalmente un peso economico naturalmente per le famiglie che accoglievano queste persone. Abbiamo sperimentato questa iniziativa di Tandem, cioè di famiglie che aiutano famiglie che accolgono rifugiati ucraini. Quindi un aiuto economico in questo senso ma anche un aiuto in disponibilità di tempo magari per accompagnare i bambini a scuola o in attività extrascolastiche. E questo insomma era perché naturalmente col passare del tempo la cosa si faceva un po' più pesante dal punto di vista economico e quindi questa era la motivazione che ci ha spinto a lanciare questo appello alla cittadinanza. Iniziativa dell'Associazione Donne in Movimento per le donne iraniane. Anche Kaltanisset si mobilita con un sit-in. In viale della regione dall'ingresso dello stadio Palmintelli lunedì prossimo tra ottobre dalle 12 del mattino alle 13 si sarà al fianco delle donne iraniane per sostenere la loro protesta contro le repressioni del regime iraniano che priva le donne dei loro diritti, primo tra tutti quello della libertà, a promuovere l'iniziativa dell'Associazione Donne in Movimento. Noi nel nostro piccolo manifestiamo il nostro sostegno a queste donne perché è veramente importante fare sentire loro che non sono sole e che c'è un'intera comunità che si occupa di loro. Ovviamente la prima cosa che chiediamo è intanto il rispetto dei principi della Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici da parte del regime iraniano e poi che si interrompa subito questa violenta repressione delle proteste che venga garantito l'accesso a internet, venga ripristinato il flusso di informazioni che attualmente si è interrotto e che venga condotta un'inchiesta seria sulla morte non solo di Mascia ma anche di altri 76, se non ricordo male, manifestanti. Dalle piazze iraniane a quelle del resto del mondo, per onde donne in movimento è necessario richiedere una commissione di inchiesta seria sulle uccisioni e gli abusi perpetrati in Iran. In una nota Dasti comunica che il 29 settembre, festa del patrono San Michele, verranno garantiti servizi di raccolta porta a porta utenze domestiche e non domestiche, spazzamento manuale e meccanizzato del centro storico e la raccolta dei cumuli abusivi. Inaugurazione dell'anno scolastico incontro al liceo classico Ruggero VII. L'anno scolastico si apre con un incontro dedicato alle studentesse e gli studenti nisseni degli istituti di scuole superiori del territorio con un incontro tenuto all'interno dell'aulamagna del liceo classico linguistico e coreutico Ruggero VII per riflettere sul tema, la gentilezza e la tenerezza, il loro ruolo educativo nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo. In apertura l'intervento del prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia, che della gentilezza dice è coraggio perché non si ha paura di stringere una mano, di dare un sorriso e la gentilezza io la collego alla lotta al contrasto al bullismo. Sono molto collegati, gentilezza per combattere il bullismo. Subito dopo il sindaco Gambino ha affrontato l'aspetto del rispetto del bene comune e dell'ambiente. Il questore di Caltanissetta Ricifari parlando di cyberbullismo ha invitato la giovane grimita platea a fare un atto di riflessione e gentilezza prima di scrivere sul web. Messaggio ulteriormente rafforzato da quanto ribadito dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta il colonnello Stefano Gesuelli. Parte invece dai dati il comandante dei carabinieri, il colonnello Pasquale, che sottolinea come un giovane su due abbia subito atti di cyberbullismo ed è invitato a non abbassare la guardia rispetto al dark web, al cyberbullismo, ai fenomeni di revenge porn, ma di farsi promotori di relazioni autentiche nonostante il filtro del mondo digitale. E poi i rappresentanti della consulta studentesca, Luca Sabella e Sara Turendi, si sono rivolti agli studenti ricordando loro di essere cittadine e cittadini del presente. Anche momenti di musica e danza hanno introdotto e concluso l'incontro. Nuove sfide pedagogiche attendono i dirigenti scolastici a cui il Ministero dell'Istruzione ha dato il compito di attuare il PNRR per abbattere il divario nord-sud nel contrasto delle povertà educative generando rete. Sono tanti gli obiettivi di noi dirigenti chiamati a realizzare ogni anno un'offerta formativa aderente ai bisogni del territorio. Lo facciamo sia con la nostra necessità di natura amministrativa, ma soprattutto come leader pedagogici in una fase della storia in cui c'è il ritorno a scuola senza misure di contenimento del Covid particolare, in cui si riattivano le relazioni umane. All'interno dell'evento inaugurati anche i nuovi spazi didattici che ospitano le attività didattiche e formative progettate dal professor Fabio Fiorenza. La prevenzione vince il cancro, visite gratuite senologiche della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Si avvicina il mese di ottobre, mese dedicato alla prevenzione e anche quest'anno la sezione inistena della Lilt aderisce alla campagna nazionale Nastro Rosa 2022 parlando di diagnosi precoce. L'obiettivo è riassunto in un motto, No Women with Breast Cancer, e quindi si punta verso la mortalità zero per il cancro al seno. Un ruolo decisivo assume la prevenzione sia primaria che secondaria, promuovendo corretti stili di vita ad esempio, ma anche invitando le donne a sottoporsi delle visite senologiche. Visite che la Lilt Caltanissette effettuerà non solo nella sede nissena, ma anche nei comuni che lo richiederanno e che metteranno a disposizione dei locali donnei. Da donna sicuramente il messaggio che vi voglio lanciare è quello di far propria la cultura della prevenzione, perché la prevenzione è l'unica arma che ci rimane a disposizione per combattere questo killer, che è stato definito il killer numero uno, e mi sto riferendo soprattutto per quanto riguarda l'universo femminile al cancro al seno. Il presidente della Lilt Nazionale, il professore Schittulli, ha evidenziato che i casi nel 2022 sono aumentati in maniera esponenziale di circa il 30%, pertanto è assolutamente importante che la prevenzione venga coltivata e soprattutto coltivata e fatta coltivare dalle nuove generazioni, dalle giovanissime, quindi con l'impegno anche da parte loro alla prevenzione. Proprio quest'anno la Lilt festeggia il proprio centenario nell'impegno contro il cancro, con delle grandi novità perché oggi la prevenzione, possiamo certamente affermarlo, vince il cancro. Vince il cancro perché l'avanguardia della prevenzione è la ricerca dell'invisibile. Oggi noi abbiamo la possibilità con strumentazioni di alta tecnologia e questo è l'impegno che è necessario, cioè fornirsi di questi strumenti per poter fare delle diagnosi sempre più precoci. Intanto proseguono le iniziative che coinvolgono le scuole. Il progetto Mettilo KO che dall'anno scorso è diventato un progetto di rete che coinvolge tutti gli istituti scolastici delle province siciliane di quattro città dell'Italia, Torino, Campobasso, Potenza e Doristano. Un progetto che ha avuto un grande successo, finanziato dalla Lilt nazionale, che vuole avere lo scopo di informare sul cancro della mammella e non solo, ma dare delle indicazioni sui corretti stili di vita e soprattutto avere delle informazioni attraverso una scheda che viene compilata dagli studenti e che viene poi analizzata fornendo loro la possibilità di fare un controllo qualora vengano individuati come soggetti a rischio più elevato. E passiamo allo sport calcio. Nel turno infrasettimanale di Serie D la San Cataldese ha vinto 1-0 sul campo del Cittanova in Calabria, conquistando i primi tre punti della stagione dopo la sconfitta casalinga maturata al termine della prima giornata. A decidere il match è stato un gol messo a segno da Raul Torregrossa dopo 60 secondi dal fischio d'inizio. Un avvio fulminante quello della San Cataldese che poi ha amministrato con determinazione il vantaggio fino alla fine dell'incontro. Andiamo a vedere i risultati di questo turno di Serie D. Castrovillari, Catania, Sant'Agata, San Cataldese, Ragusa, Locri, Canicattia e Paternò tre punti. Trapani, Cittanova, Cirreale e Mariglianese uno. Chiudono San Luca, Licata e Santa Maria Cilento a zero. E restiamo con il calcio. Vediamo il turno infrasettimanale di Coppa Italia. Nell'andata degli ottavi di finale della fase regionale della Coppa Italia di eccellenza si è conclusa 0-0 la partita disputata al Palmintelli tra Nissa e Acragas. Per conoscere il nome della squadra promossa ai quarti bisognerà attendere la gara di ritorno allo stadio Esseneto di Agrigento mercoledì 12 ottobre. Domenica prossima la Nissa sarà chiamata a giocare nuovamente tra le mure amiche contro la Parmonval. E vediamo il quadro dei risultati di questo turno di Coppa Italia. Taormina Leonzio 1-1, Comiso Modica 1-1, Enna Don Carlo Misilmeri 2-0, Nissa Acragas 0-0, Nuova Igea Rocca Quedolcese 2-0, Mazzarese Sciacca 1-0, Palazzolo Siracusa 0-1, Resuttana San Lorenzo Parmonval Posticipo. Bene, per questa edizione è tutto. Vi lascio al meteo, alle notizie di pubblica utilità. Grazie per averci seguito e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Amici di Trebimete, un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì. Dopo una relativa tregua nella giornata di mercoledì, giovedì una nuova perturbazione nord-atlantica si tufferà nel Mediterraneo, andrà a interessare anche l'Italia, determinando una forte instabilità su gran parte delle nostre regioni. La numerosità sarà così in aumento su tutte le nostre regioni fin dal mattino. Vedete molte nubi praticamente ovunque, salvo qualche apertura in più che insisterà invece tra Sicilia e settori ionici. Dal punto di vista delle precipitazioni avremo acquazioni e temporali diffusi fin dal mattino che impegneranno Sardegna e regioni terreniche, ma poi anche un po' tutte le altre regioni nel corso della giornata. Per quanto riguarda la previsione, quindi ci aspetta una giovedì piuttosto instabile con acquazioni e temporali diffusi sui settori centrali, specie quali terrenici, localmente anche di forte intensità. Però vedete piogge e temporali impegneranno anche le altre regioni, soprattutto il Triveneto e parte di quelle adriatiche, mentre sarà più asciutto e con delle schiarite in Sicilia, sui settori ionici e in Puglia, qui con temperature ancora vicine ai 30 gradi, mentre al nord non si andrà oltre i 20-22 gradi. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli vi rimando all'app gratuita di Trebi Meteo. Farmacie di turno, Caltanissetta, Servizio diurno, San Pio X, Via Napoleone Colaianni, Servizio notturno, Vizzini, Viale Trieste.